Finalmente oggi si sta realizzando un sogno, è la prima della fase più importante, perché questi sono gli elementi, il primo e il secondo elemento che verrà messo già sulla base, che verrà fatto a costiera. L'opera si chiama La dimensione del tempo. Il tempo non ha dimensione, ecco perché col tempo si possono fare tante cose, la storia si fa col tempo. E noi attraverso questo tempo, questo tempo moderno, ho cercato di realizzare quest'opera su proposte che ho fatto il consigliere Foggia, che lui con il suo entusiasmo ha saputo coinvolgere tutti gli sponsor, materiale e tutto quanto. Una fatica impressionante, enorme, perché ho dovuto sagomare il ferro, sagomare il polisterolo e diciamo una cosa quasi all'inizio in solitaria, però ora con la collaborazione dei carpentieri che abbiamo assemblato il tutto, diciamo il risultato spero che poi alla fine ci sarà. Una cosa importante, la storia si fa attraverso l'emozione e noi mettiamo passione a meno per gli artisti e così. Questo chissà un giorno si ricorderanno, ci ricorderemo di queste cose, delle grandi opere, delle grandi cose fatte senza denaro, perché dobbiamo considerare che qua gli sponsor sono dei privati, quindi tutto fatto con la buona volontà, con la mia buona volontà, perché è chiaro che l'artefice è sempre l'artista, però tutti insieme riusciamo a portare a termine questo compito che speriamo per la festa del pane e riusciremo a inaugurare il 5 agosto. Salve, sono Giovanni Losciuto e sono l'amministratore della calcestruzza del Fares RL di Campobello di Mazzara. Io sono onorato di aver partecipato e contribuito per quanto riguarda la scultura che deve essere realizzata con Trata Costiera per la festa del pane. Siamo a disposizione e felici di contribuire a questo evento. Noi come Giacalone Group siamo orgogliosi di avere partecipato e di partecipare ancora a questa manifestazione, a completare questa struttura e opera, grazie all'architetto Bianco e al consigliere Foggia. Siamo orgogliosi di aver partecipato. Un altro passo per realizzare questa importante opera. Io naturalmente devo ringraziare l'architetto Gerri Bianco per la passione e l'amore che sta mettendo. Dice lui che è l'arte e l'anima della nostra cultura e io la condivido. C'è chi rievoca la storia e la festa del pane in questi anni è stato un esempio, ma c'è comunque chi la scrive la storia e noi per adesso stiamo scrivendo la storia con questa importante opera d'arte che sta realizzando sia l'architetto Gerri Bianco, ma soprattutto le imprese che ci stanno donando dei materiali. Io devo ringraziare la Giacalone Group SRL per il grande sostegno perché ci ha dato l'opportunità di dare tutto il ferro per armare la struttura. Poi devo ringraziare la Caccia Estruzzi del Faro che ha messo a disposizione il cemento sempre per la struttura e ringrazio quindi l'amico Giovanni Losciuto. Un ringraziamento particolare lo voglio fare all'impresa Edele Master SRL per il grande impegno e il grande amore che stanno mettendo nel realizzare anche in questo importante scultura e sono coadiuvati sempre dall'amico Gerri Bianco. In più devo ringraziare ILED che è il negozio di Giuseppe Truio che ha dato l'opportunità e illuminerà questa scultura che comunque sarà installata a Borgata Costiera. Ringrazio Cromat, ringrazio Chiraema, ringrazio pure Giametta. Tutte le aziende comunque stanno sostenendo questo importante progetto. Noi ci abbiamo messo l'anima, ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo messo la passione. Questo significa che amiamo la nostra città. Questa non è una scultura che verrà installata a casa del consigliere Foggia o dall'amico Gerri Bianco. È una scultura che viene comunque installata per tutta la città e per tutta la collettività. Di solito noi ci dimentichiamo delle periferie, noi invece stiamo scrivendo la storia della periferia, in questo caso parliamo di Borgata Costiera. Questa scultura due o tre mesi fa sembrava un miraggio. Dice l'amico Gerri che è da otto o nove anni che voleva realizzare questo piccolo sogno. Questo piccolo sogno alla fine sta diventando comunque realtà. I sogni sono quelli che ci aiutano a vivere, non si vive dei sogni. Ognuno ha dei propri obiettivi, ha delle proprie ambizioni. Io credo nell'arte, credo nella cultura. Naturalmente metto anche la mia tenacia a disposizione, ma devo ringraziare tutte quelle persone che comunque stanno seguendo e alla fine devo dire la verità che in un momento di crisi trovare aziende disposte comunque a donare qualcosa per la propria città significa che alla fine veramente tengono e amano le sorte di queste città. Questa è la Mazzara che mi piace, questa è la Mazzara che voglio e questa è la Mazzara che amo. Grazie.